Bentornati a questo corso di filosofia online su YouTube. Allora, in questo contributo video andremo a guardare rapidamente la concezione dello Stato e dell'uomo in Machiavelli. Allora, Machiavelli compose sostanzialmente due opere importanti. In realtà fu anche un grande autore teatrale, scrisse versi, scrisse poesie, scrisse anche opere di storiografia. Però qua ci interessa concentrare la nostra attenzione sul principe del 1513 e il vero capolavoro strutturato e meditato del segretario fiorentino ai discorsi sopra la prima decca di Tito Livio. Queste due opere, in un certo senso, si completano a vicenda. Furono composte grossomodo nello stesso periodo, il principe del 1513. I discorsi, naturalmente in più anni, è un'opera a più strati, fatta appunto, costruita in itinere dal 1513 circa fino al 1517 e sono praticamente due manifestazioni. I discorsi del pensiero machiavelliano. Se il principe è un, vabbè, i fatti, la realtà, la verità effettuale è che abbiamo, come dire, dei principi, dobbiamo interloquire con dei principi e non con degli istituti repubblicani. Per cui mi rivolgo a un monarca, in questo caso il principe, appunto, un breve trattato sull'arte di governare, scritto con l'intenzione di ottenere il favore dei medici. Invece, nei discorsi, Machiavelli scrive appunto il suo pensiero, appunto, sebbene che è appunto quello di un fervente, di un convinto repubblicano. Sebbene in apparenza, appunto, queste due opere si configurino come un commento al testo dei primi dieci libri dello storico Tito Livio, sono un'opera appunto più teorica in cui Machiavelli sviluppa in maniera decisamente particolata il suo pensiero. Come abbiamo detto, Machiavelli ritiene che ogni società debba la sua nascita a determinati principi che vengono formalizzati da legislatori, appunto, come Solone o Licurgo. Questi principi non sono però fuori dalla storia. Questi principi variano a seconda della società a cui si applicano. Ogni popolo ha infatti delle virtù, ricordiamo, virtù viene da vir, uomo, da, appunto, sta a indicare l'opposizione che un uomo può nei confronti del fato, nei confronti del caso, nei confronti della fortuna. Virtù è giocata sicuramente in senso aristotelico, appunto, non come qualcosa, è vista in senso aristotelico, non come qualcosa che ci fa essere buoni, ma come qualcosa che ci fa essere operosi, nel senso che nella virtù machiavelliana l'accento è spostato, appunto, sullo scopo, il raggiungimento di un determinato scopo. Ora, nel fondare una società, il legislatore deve tenere conto di quali siano, appunto, le virtù del proprio popolo nella concretezza della loro manifestazione. Il suo compito è simile, appunto, a quello di un sarto che deve confezionare un abito in grado di esaltare il più possibile le forme e le qualità del cliente. Machiavelli ha una visione, come dire, distaccata dell'uomo rispetto alla esaltazione picchiana, officiniana. In questo, infatti, si distacca, si allontana dalla definizione di umanesimo e di umanista tucur. Machiavelli si può dire sicuramente filosofo, ma non si può dire che sia, come dire, un umanista in senso stretto, non conosce il greco, non ha una formazione strettamente filosofica, non è un Marsilio Ficino, anzi, c'è una distanza siderale fra Niccolò Machiavelli e Marsilio Ficino, ma anche da Pico. E quindi diciamo che ha una visione rinascimentale dell'uomo, ha una visione tragica dell'essere umano, ma non esalta l'uomo come mens mensura, come centro dell'universo. Anzi, l'uomo, per non finire, per non ruinare assieme al suo stato, deve opporre una grandissima virtù, perché i colpi del caso, della fortuna, i colpi del fortuito, dell'inatteso, dell'incidente, sono sempre dietro l'angolo, cosa c'è dietro l'angolo? La fortuna, e possono distruggerlo alla velocità della luce. Quindi c'è un distacco da un'incondizionata esaltazione della natura umana, Pico della mirandola gli è estraneo, e l'uomo è determinato, determinismo machiavelliano. L'uomo è determinato e non può mutare. Quindi Machiavelli non considera l'uomo una creatura particolarmente stupida, come potrebbe apparire leggendo alcuni passi del principe, ma il punto essenziale è che l'uomo può, di fatto, l'uomo può di fatto essere cattivo, e che non dobbiamo mai scordare che le passioni malvagie, quali sono le passioni malvagi? L'egoismo, l'avidità, la cupiditas, l'ambizione, quelle stesse passioni di cui parlerà, non le passioni triste di Spinoza, ma vedremo più avanti, le passioni malvagie hanno tanta forza quanto appunto le più nobili aspirazioni. In questo Machiavelli, dall'alto, della propria esperienza sul campo, ripetiamo, Machiavelli è uno che è stato sul campo, ha fatto il segretario per la seconda cancelleria, ha fatto le ambascerie, è arrivato subito fino su in Tirolo, dall'imperatore Massimiliano, insomma è stato operato durante la Repubblica a fine Quattrocento, e poi viene rioperato dai medici, ma per delle operazioni, come dire, un pochino più intellettuali che di praxis politica, di pratica, però Machiavelli è stato un uomo, un protagonista della vita politica fiorentina, e quindi italiana. Questo Machiavelli appunto si distacca nettamente dall'esaltazione della natura umana tipica di umanisti come Ficino e Picò. Machiavelli in questo senso non è umanista, assolutamente. Si distacca che appunto vedevano solo i lati divini dell'essere umano. Ma quali i lati divini? Per carità, l'uomo secondo come è appunto un uccello da rapina, è un volatile che banchetta sulle carcasse cadaveriche degli animali. La sua visione, e questo va sottolineata, è spesso disincantata, Machiavelli vive il regno del disincanto, ma non esclude che esistano uomini giusti, come ad esempio i fondatori degli stati, i fondatori delle religioni e i letterati. Chi sono all'interno di una società quelle persone che veramente valgono, che veramente possono portare giovamento alla Repubblica, che possono veramente, come dire, fare da traghettatori, da nostromi nelle intemperie della politica. Questi sono appunto i fondatori di Stato, i fondatori delle religioni, fra, come dire, il primo re e il secondo re di Roma, Machiavelli non ha dubbi, rispetto, come dire, al primo re, Numa, Pompilio, fu, come dire, più importante di Romolo, perché Romolo, è vero, fondò, ma Numa Pompilio dette ai romani una religione, li relegò, li legò insieme, dette un motivo ai romani appunto per andare avanti, dette una speranza, un credo, quindi, fra il primo re e il secondo re, sicuramente, il capo religioso Numa Pompilio fu assolutamente più importante dello stesso dello stesso fondatore. Quanto alla religione, Machiavelli ne ha un'alta opinione, quindi, non entriamo nelle questioni di Machiavelli agnostico, Machiavelli ateo, certo, Machiavelli era di matrice lucreziana, e questo comporta, no, delle evanescenze corporee che si stingono nel nulla, ma non ci interessa. Comunque, la religione, Machiavelli, anche se è strettamente legata alla politica, perché a Machiavelli non gli interessa la religione mistica, non gli interessa la religione intimista, ma gli interessa appunto una religione in quanto, appunto, instrumentum regni, come strumento politico. Machiavelli, durante le prediche di Savonarola, è lì, nelle chiese, mentre il frate incendiario sbraita e commenta i salmi rapportandoli alla corruzione della Firenze tardo quattrocentesca, Machiavelli sorride perché dice sì, non sta facendo religione, questa è politica, religare, religio, si ritorna all'accezione latina del termine religione, religio. Machiavelli ritiene infatti che la religione sia un forte elemento di coesione sociale e politica e che i romani facessero benissimo a legare il culto religioso alle istituzioni statali. Roma era una divinità, per chi lotti per Roma, il miliziano romano sapeva che non si doveva disperdere durante gli sconquassi della battaglia perché comunque c'era Roma, questa divinità, questa città eterna, politica che gli dava quella vis necessaria, quell'esaltazione necessaria per pugnare in battaglia. Appunto con questo legame fra il culto religioso e le istituzioni statali appunto iniziate con Numa Pompilio col secondo re dei sette re di Roma, Machiavelli appunto apprezza questa religione romana, invece è più scontento, è più severo nei confronti della religione intesa appunto come chiesa di Roma, come chiesa romana e questo per due motivi, il primo è che Machiavelli ritiene che gli ecclesiastici con il loro comportamento molle, piumato, non diretto, abbiano distrutto il prestigio morale di cui godeva la chiesa, appunto minandone così anche il valore. Il secondo punto il fiorentino vede nella presenza del papato e questo è un discorso che fa più riprese un vero ostacolo, un ostacolo all'unificazione dell'Italia e quindi in prospettiva il motivo per cui l'Italia si trova in quegli anni ma anche successivamente alla mercè di barbari francesi spagnoli il cui dominio come afferma nella chiusa del principe puzza sono elementi esterni e è colpa nostra se siamo dominati dai francesi e dagli spagnoli perché è ancora oggi per noi lo stato come dire è lo straniero che ci chiede i soldi perché è colpa nostra se siamo stati deboli frammentati divisi e abbiamo permesso alle potenze straniere di venire a spadroneggiare a casa nostra detto questo le preferenze di Machiavelli vanno verso le istituzioni repubblicane ripete anche Tito Livio e la sua adesione repubblicana a Machiavelli ripetiamo un fervente repubblicano nonostante dia consigli ai tiranni al principe ritiene che in genere la volontà popolare sia meno crudele di quella di un singolo tiranno quindi basta con questi luoghi comuni sul Machiavelli tirannofilo sul fine che giustifica i mezzi che fra l'altro non ha mai detto si trova scritto in una lettera e non è formulato così basta con il come dire il 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 machiavellico e soprattutto con le ingerenze anglofone che hanno ci hanno restituito un Machiavelli non non obiettivo non puro ma un Machiavelli spurio il Machiavellico è una visione spuria di Machiavelli appunto basata su un principio sbagliato sappiamo che le premesse sono errate anche quello che conviene nei silocismi è errato ritiene inoltre che per evitare gli arbitri del potere e le atrocità sia utile dividere i poteri in modo che nessuno possa sopraffare gli altri lo stato romano ha prosperato perché ha mantenuto il conflitto ma un conflitto positivo auspicabile utilizzabile tra popolo e senato ed è e qual è che il popolo romano quando è che lo stato romano è entrato in crisi quando una parte ha preso il sopravvento sull'altra quando il senato ha preso il sopravvento sul popolo o il popolo ha preso il sopravvento sul senato ci vuole sempre una virtù una virtù mediana naturalmente però essendo gli uomini cupidi di guadagno e e e e e e e fuggitori e e e fuggitori della 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 virtù ci vuole a quel punto ci vuole a quel punto un se no se il popolo diventa minorenne ci vuole un un adulto che li che li e governi che li governi e questo no è anche quello quando qui arriviamo addirittura a Kant no del sapere aude non non pensa tu intervieni tu in prima persona perché se no arriverà qualcun altro a pensare e a pensare a pensare per noi e questa è una grandissima lezione che ci regala Niccolò Machiavelli nel prossimo come dire nel prossimo contributo video prenderemo più da vicino il principe e andremo a vedere insieme come deve comportarsi un principe per mantenere lo stato proteggere i suoi subiti e non ruinare grazie alla vostra attenzione iscrivetevi al canale lasciate un like lasciate i commenti lasciate le domande se possiamo vi rispondiamo passate parola qualora conosciate persone interessate a questi a questi argomenti e noi ci vediamo domani con un nuovo video grazie e bontà vostra per essere arrivati fino a qui grazie a tutti